La conferenza di Capigruppi al Senato ha rinviato la discussione, quindi l'approvazione, eventuale approvazione della DDLC-RINA-Unioni Civili. C'è ancora il nodo della stepchild adoption. Lei cosa ne pensa? Penso che sia l'occasione per rivedere in modo sereno un testo che, abbiamo detto tutti, anche i giuristi, apre all'utero in affitto e la maternità surrogata. Lo fa in modo collaterale, non chiaro e trasparente per tutti. Oggi questa cosa è venuta ed emersa al pieno della sua complessità e quindi si possono trovare delle soluzioni.